Ragazzi, sono ancora io, sono il vostro amico youtuber Gabri Costa. In questo Cyberbots Full Metal Madness vi farò vedere l'ultimo personaggio giocabile, Arieta. Vi farò vedere tutte le sue scene, come sono fatte. Vediamo se Arieta riuscirà a completare la sua missione e a farla una volta per tutte. Prima di tutto deve sconfiggere Bao e Mao e i loro robot Fordy. Io vi saluto, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace. Ciao! Ciao! Grazie! Grazie!